Siamo per andare in diretta con l'ultima partita dei quarti di finale della dodicesima edizione del torneo di calcio Coppa Ciriaco Petrilli, organizzato come sempre dalla locale Unione Sportiva Flumerese e patrocinato dalla FIGC Comitato Regionale Campano di Napoli. Per questa gara stanno per scendere in campo l'Unione Sportiva San Nicola Baronia e l'Unione Sportiva Flumeri. Nel frattempo vi annunzio le formazioni delle due squadre. L'Unione Sportiva San Nicola Baronia scende in campo con Cuciniello, Scopanova Del Priore, Gesa Mario Moriello Buccio, Gesa Raffaele Spolidoro Nigro, Gesa Michele Alfano. L'Unione Sportiva Flumeri schiera la seguente formazione. Nardiello, Salza Brogna, Befaro Giacobbe presentato, Del Sordo, Bravoco Masucci, Gagliardi Pezzella. Le squadre si affronteranno in questa partita agli ordini del signor Vittoria Giuseppe della Federazione Arbitrale di Napoli, coadiuato dai guardaline Vittoria e Grippa entrambi della sezione arbitrale di Napoli. Gli spalti sono pressoché gremiti, la partita infatti coincide con la festa del santo patrono di Flumeri San Rocco che come sempre richiama l'attenzione e la curiosità degli sportivi ma anche degli appassionati della festa. L'arbitro in questo momento richiama le squadre che si apprestano a disporsi per entrare sul terreno di gioco. Sono in corso le ultime operazioni per rendere il campo più rispondente alla disputa di una partita di calcio, mentre notiamo che ancora il pubblico accorre con discreta affluenza agli sportelli. È una partita, dicevamo, che richiama la curiosità e l'attenzione di molti sportivi della zona. È l'ultima gara di qualificazione dei quarti di finale. Grazie a tutti.